Bentornati ragazzi in questa nuovissima puntata qui su Youtubers Life Ragazzi come stavate vi ho detto lasciate un bel like mi raccomando Ragazzi non lo so i 500 like e oltre questo ragazzi vi ricordo trovate qui sotto il link per Instagram e Telegram Che sono i due social che uso di più E a parte questo ragazzi scorsa puntata ci eravamo messi in testa che dovevamo cambiare un po' casa con l'IKEA Mi avete scritto anche nei scorsi commenti, nei scorsi video di fare quello che so con l'IKEA Quindi oggi vedremo un attimo di fare qualcosa di questo tipo Dobbiamo però fare i soldi perché siamo quasi a fine del mese E dobbiamo pagare tipo 1300 che sono davvero tanti Quindi per ora vorrei fare più video possibili E se riusciamo tipo passare ovviamente a un milione di iscritti per farmi sta roba Devo comunque pagare ancora sti soldi per il copyright non dovrebbe essere un problema Mi avete scritto nei commenti che sia fatto sulle card in teoria Dovrei poter andare su quello dei copyright e toglierlo in qualche modo O sbaglio No mi avete scritto però non sono sicuro di questa cosa non so come funziona sinceramente Quindi eh peccato ragazzi vedremo un attimo come fare Comunque rimane il fatto che devo tornare sopra e fare un nuovo video Quindi facciamo un nuovo video veloce veloce Così otteniamo soldi E andiamo avanti tranquillamente Quindi possiamo pensare per esempio di fare un altro video su Dragon Quest Su Queen, scusami, su Queen of the Gnome Facciamo un gameplay come al solito Perché è un gameplay tranquillo, leggero, senza problemi Ottimo Ricordiamoci che dobbiamo ancora modificare le varie cosette della nostra postazione E migliorarla perché se no non possiamo andare avanti E andiamo quindi a fare il nostro bellissimo coso Ovviamente avete scritto nei commenti di andare a dormire e mangiare spesso Ragazzi lo so ovviamente però non posso farlo sempre È normale Sto cercando di vedere se riesco a fare comunque 12 punti qua Anche se come vi ho scritto è piuttosto complicato da fare Perché ovviamente non sempre si possono fare Quindi bisogna fare il nostro meglio per poter fare ste cose Buttiamoci questo da 11 Oddio è un botto Siamo a 5 E abbiamo bisogno ancora di buttare tantissima roba Quindi spero effettivamente che non ci sia un problema di nessun tipo Abbiamo un sacco di audio e un sacco di post production Quindi why not Avrò qualcosa di fantastico 15 punti da poter spendere nel giro di 6-7 cose Non credo di farcela in realtà No vabbè forse vediamo Non credo proprio no Perché il prossimo sarà a 12 E infatti ok andiamo con questo Ecco i soldi sono arrivati ragazzi Pochi soldi perché c'era il problema del copyright come stavo dicendo E basta finito così Quindi andiamo un attimo a fare ste cose Poi facciamo fare anche un video al piccolo Alla nostra piccola amica qui sotto Che sta un attimo cazzeggiando E mi ha scritto nei commenti Che tipo la nostra tipa di merda Ha mandato Ha cioè fatto lì stesso C'è tipo commento negativo E ragazzi non lo sapevo sta cosa eh Stronza Stronza lo insulteremo ragazzi tranquillamente Ok Questo è uno dei video più perfetti Che posso fare con questa cosa Mi ha scritto nei commenti Ma perché usi certi cosi e certi cosi invece no Perché vado a vedere un attimo Quali punti ho Così devi dare più punti Al All'editing Quindi quando per esempio Scelgo ste cose Le scelgo perché In effetti qui ci sono Come vedete Gli stessi La stessa tipologia Di punti in sostanza Quindi faccio così per Migliorare il tuo quanto Abbiamo fatto un nuovo editing 2006 Wow Perfetto E ci facciamo i soldi Nel frattempo Tu fammi un video E potremmo fare i corsi Lei ma lì non li faremo fare mai i corsi Andiamo sempre con I nostri gameplay tranquilli Leggeri Dovremo Prendere un nuovo tipo Appena possibile Ma lo faremo Ragazzi non preoccupatevi Comunque A proposito Qua senza filtro Perché non ho ancora Nessun microfono De migliorare il microfono Ragazzi sapete E vabbè Comunque in teoria Dovrei farcela Far tutto quanto Qui ho ancora qualche cosa Per quanto riguarda il copyright E Sì 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 Devo fare Questo problema di copyright Grazie per la possibile Non so come fare Devo andare a lavorare Probabilmente Quindi Andiamo a lavorare velocemente Facciamo questi soldi Per i video E poi siamo a posto Quindi Andiamo un po' Lavora Facciamo Questo da 30 Così Spendiamo quei 192 E ciao E hai finito quanto Speriamo effettivamente Che non ci sia un problema Di nessun tipo E che i soldi li guadagno Che se no Ragazzi È come se non avessimo lavorato Per nulla Infatti tipo adesso Andiamo subito a fare Vedete abbiamo preso davvero pochi soldi Andiamo qua Ok no Dove sta Diamine dove era qua Del copyright Ok dai No merda ragazzi Ok sono andati i soldi Ok vedete abbiamo preso meno soldi Abbiamo preso Che niente Abbiamo pagato sta cosa Ora non abbiamo più problemi Finalmente Meno male Però dobbiamo comunque Fare i video a lei Fare le cose normalmente Sta ancora editando E facendo cose Io direi andiamo a dormire E dobbiamo lavorare un botto Dobbiamo lavorare un botto So che devo fare l'ikea Lo so Lo so Ma Al momento Se non abbiamo i soldi Per pagare l'affitto Non possiamo nemmeno Comprarci roba stupida Per noi Quindi veloce Lavoriamo Facciamo un botto di video E portiamoci avanti Con le nostre serie Ragazzi miei Voglio portare un video Tipo a livelli altissimi Per vedere effettivamente Quanto posso andare avanti Per il momento Ok 32 Solito Ottimo E allora Tipo dovrebbe aver finito Fra poco Quindi ricordiamoci Che dobbiamo anche Farci La cosa E dobbiamo andare a cercare Un prossimo amico Credo di prenderlo Il maschietto Perché mi serve Ah no Perché guarda No copri ragazzi Non lo metto Vi giuro La cosa deve aspettare Ma niente Copyright Ottimo Quindi abbiamo Questa roba Cerchiamo di andare avanti Più che possiamo Mondiamo questo Sti cavoli davvero Pessimo editing Ma non Fare Le stronzate Prendimi i copyright Perché davvero Il copyright mi sta davvero Antipatico Quindi Ok perfetto così Va più o meno bene Non abbiamo fatto il massimo Ma Ci siamo contenti Va benissimo così Questa è la tipa Eh aspetta che ha un video Questa Dove è andata Se ne è andata a casa Se ne è andata Pezzo di merda Va bene Va bene Come siamo messi questo Posso fare Posso fare questo Posso fare questo qua Posso fare questo qua sotto E questo Ok più o meno Nel senso Vabbè Non è male Poteva andare meglio Ma Scialla E questo E facciamo questo Giusto Sì Va bene vai Ok processiamo Perfetto Poco editing Con i clienti Avete saputo Un attimo Che sono un attimo Abbastanza male E Sciogli sul tuo video Ottimo Guardate sta livellando Sta livellando Dai brava Scialla Brava Tranquilla Tipa Intelligente Ok Noi abbiamo fatto il nostro video Quindi siamo a posto Anche da questo punto di vista Mangere qualcosa E Ok Oh mio dio Raga Quattro giorni Nemmeno E abbiamo problemi Ok Mangiamo qualcosa Speriamo di fare Abbastanza soldi Ragazzi Se no siamo Della merda Vi giuro ragazzi Siamo davvero Messi malissimo Non so Nemmeno Come potrei farlo Vediamo i commenti Parte l'editing Va bene Vediamo il resto Abbiamo tutto a posto E speriamo di fare Abbastanza soldi Vi stavo dicendo Perché siamo al 28 E se non facciamo Velocemente Altra roba Possiamo avere Problemi Di tutti i tipi Ok Fatto questa cosa Facciamo un altro video Visto che abbiamo fatto Un bel po' di gameplay Adesso su questo nuovo gioco Direi Anche 5 stelle Facciamoci finalmente Walkthrough Vai Walkthrough E lo fai sul Secondo pc Non sul primo Stronza Ok Vai E lo faccio anch'io Invece qui Nuovo video Nuovo walkthrough Vediamo un po' Quattro video addirittura ragazzi Guarda Poi ci andiamo avanti Sempre walkthrough Perfetto Peccato per la first impression Che non lo posso fare Credo ci sia un nuovo gioco In realtà Perché no Se il suo titolo Li ho messo Vabbè Sti cavoli Tanto è uguale ragazzi Non cambia molto Allora No Buttiamoci questo Buttiamoci all'inizio Ok Poi Questo Va bene Ecco Appena è uscito Vampireman love Che devo comprare Però vediamo un attimo Come siamo messi i soldi Quattrocento Seicento Niente Siamo ancora sotto ragazzi Davvero tanto sotto Nei tre mesi E sapete tipo Se non paghiamo in fretta Poi ci cacciano Dopo il secondo mese Quindi Uh Guardate 18 punti Bom Copione Assolutissimo Allora Se avete scritto anche nei commenti Come ho fatto a prendere la patch Per l'italiano ragazzi Si trova sul steam Sul sito Cioè Vate sul steam Sul forum E trovate la patch In italiano Cioè è facilissimo da trovare Ok Andiamo aditare Ah devi andare a giocare lei Perché ovviamente sono andato prima io Giustamente Mi c'ha ragione anche Poveretta Ha detto Eh stronza Mi ha fatto giocare prima Ok Facciamo così Così Poi sotto E posso andare con questo Due di questi Sono Così Ottimo Sopra così Perfetto Qua andiamo in questa maniera E poi così Perfetto Direi che è più o meno decente Va Questo Più Questo Che ce ne sono un sacco 18 Questo E basta Perfetto Ok Benissimo ragazzi Opla Ecco i soldi che arrivano a nuovo livello Con un nuovo punto anche Possiamo farci un nuovo punto qui Per esempio Su Loquacità Per Recensioni Unboxing Non ho fatto ancora unboxing In realtà E questo cos'è Recensioni Eh Però devo bloccare la recensione Questo cos'è Stellina Collaborazioni No Collaborazioni niente Andiamo a questa roba Che è l'hardcore Perfetto Che a noi serve Perché in realtà Dobbiamo ancora fare sta roba Dell'hardcore Perfetto Livello 25 Abbiamo cosa del pc world Quattro cose nuove Per pc world E la tipa finita No sta ancora facendo cose Quindi direi che possiamo In teoria Andare a lavorare E guadagnare un po' di soldi Se riusciamo Qualcosa in più Giusto per Arrotondare Ragazzi Perché come insisto Non abbiamo davvero molti soldi Quindi dobbiamo arrotondare In qualche modo Oddio non posso fare nulla A questo punto no Dormiamo E poi Facciamo cose Sì direi dormiamo Perché non conviene 500 Dai Mi sembra ancora 800 gold 800 soldi Forse ce la faccio a farli Non so Però dovrei farcela Ok 57 Dai 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 Che ce la possiamo fare È davvero È brutta 31 Manca un giorno Oh Mantendo Le vita nel vento Uh Interessante C'è le vita nel vento Ragazzi Ottimo No Che collaborazione Sbagliato Devo farli vedere il video Diamine Fammi vedere il video Sbagliato Dai che passa il tempo Dai che passa il tempo Abbiamo problemi Noi Vai pubblicalo Pubblica Fotte sega Di quanto sei brava Di quanto sei potente Abbiamo comprato anche un po' di exp Buono Ricompensa ragazzi Che non ci ha dato niente Per ora E dobbiamo andare All'ottobre 3 Ok c'è una presentazione Abbiamo Oh no Vedi per sempre ragazzi Non sono riuscito a pagare E quindi Ecco Ecco Devo fare attenzione Al prossimo mese Ragazzi Siamo a meno 800 Siamo eh 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 Ci potrebbero cacciare Potremmo perdere Tutto quanto Va bene direi che Per il momento Comunque stavo dicendo Dobbiamo fare i video Oggi È stato un momento brutto Perché abbiamo il problema Del copyright E quello è un grande problema Speriamo che non ci capiti più Perché altro dobbiamo fare qualcosa Che non ci dia più il copyright Eh Credo Deve avere questo qua Io chiedo Tu rispondi E Fare un'intervista Oh ragazzi Guardate Perfetto Il miglior cosa Possibile immaginabile Perfetto Grande Ragazzina bravissima Perfetto Quindi ragazzi Lei davvero brava Si sta divertendo un sacco A fare queste cose E possiamo quindi Continuare a farli fare Altri video Altri Walkthrough Abbiamo fatto Volevo passare poi A farmi anche altre cose Vai station Due Ok Io nel fatto Potrei studiare E Insomma Fare cose Credo Perché ci potrebbe anche stare Oppure possiamo continuare Ancora con questi video Va bene Guarda quanto guadagno io Più o meno Cioè siamo lì in realtà Non troppo però Siamo in quel momento Per ora Non possiamo fare il nostro video Perché lei sta facendo adesso il gioco A posto il nostro Però noi faremo prima il gioco Però Ah Quanto godo Perfetto Siamo noi Ok Allora Ragioniamo ragazzi Abbiamo un nuovo mese Quindi adesso Facciamo attenzione a quanti soldi guadagniamo E a quanti soldi spendiamo Perché se no Ciao Copyright ancora Inserisci una scena di un Video di un altro youtuber Magari lo chiedi Posso mettere questa scena di un video No Troppo mainstream Però vabbè Ci potrebbe anche stare Ok Divertimento Vai Guarda quanti punti Porca merda E Andiamo con questo 12 Ok Abbiamo quasi fatto Credo che possiamo mettere un altro 2 Credo Questo E basta Finito Sì perché ce ne ho tanto 5 Magari esce una carta 5 No Perfetto Vai tipo Vai a giocare al posto mio Ok 700 mili iscritti ragazzi Wow Ok Questo Più Questo Sotto Quindi potrei fare questo Potrei fare questo Potrei E No Guardiamo un attimo Se faccio Andiamo un po' Qua c'è questo coso sotto E non posso fare molto Quindi forza fare così Forza fare Così Ottimo Posso fare così Così E oddio Niente E qui ho un problema Ok Più o meno Nel senso No però qua Potrevo fare due così Ehm No Facciamo così Se lo metto in questa maniera No E' un po' complicato Però è l'unico cosa che posso fare Questo 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 Visto che c'è un sacco di E beh Miglioramento fluido Perfetto Ok Continuti altissimi ragazzi Bene Continuiamo Ok Ma gli sbagli è andato male Oh raga Like Comunque Oddio Questo video è andato un po' male di like Eh E prendiamo un po' di dislike E Senti Compriamo Compriamo la collezione Raga Non so che serve Ma compriamo Eh si Sì c'è andato ancora in debito Ovviamente Oh avvertenza del guru Ok A proposito Oltre all'ikea ragazzi Dobbiamo fare anche qualcos'altro Per quanto riguarda I nostri vestiti Importantissimi Perché non ne abbiamo vestiti Dobbiamo fare qualcosa per i vestiti Ci siamo Perché siamo davvero Brutti con sta roba Per sempre Che Ora ci mettiamo un giorno E ci diamo un attimo qualche vestito bello Facciamo la presentazione di questo nuovo gioco Bloody Cookie Space Della Esl Che è in realtà Tutta una cosa E vediamo che Dianne ci darà qui Comunque Solite cose Presentazioni Teniamo a casa Tranquillamente Allora ragazzi Visto che siamo qui Facciamo un'intervista Tranquillamente a qualcuno No non so Un a caso in realtà Che non ce ne fotte niente Cioè chi è E facciamo un'intervista tranquilla Proprio leggera Allora Nel frattempo Ho recitato anche tutta la cosa Ragazzi Tranquillamente Ora possiamo uscire Tranquillamente E tipo Spero di segnata Che non ci siano problemi Di nessun tipo Con l'intervista Tutto quanto Ho fatto un attimo il video Quindi da un attimo Cliccarci E fare il show Sul video Ok Perfetto Pubblicalo E guarda Cioè Oddio anche il mio Wow E una volta che mi dicono Che è tutto perfetto Il mondo sta per finire Ragazzi miei Oh mio dio Andiamo a creare il nostro video Comunque Scialla Ok creamolo Perfetto Devo migliare il mondo direzionale Dovrei fare L'omini direzionale Giusto Facciamo questa intervista Così almeno facciamo Io chiedo tu rispondi Ci leviamo quel problema Ragazzi Di fondo Ok Guardate i soldi che guadagniamo Sono un casino Un fracco Allora Abbiamo iniziato male Quindi dobbiamo per forza Continuare così Quindi così Magari Ah no Ok forse Non è proprio il massimo Ok No 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 Non è granché Questa cosa Faccio così Faccio così No è uguale No E Boh Faccio così Non so che altro fare Ragazzi Sicilamente Perché È un po' complicato Fare sti video Vai Scialla Ok interessa è meno 25 Porca merda A me sarà che ho preso Un tipo a caso Effettivamente Però non è che mi interessasse molto Ok Allora Guardate questo Allora I video ci sono Abbiamo tutto quanto pronto Abbiamo 450 E passa Direi Perché Oddio Sostituisci Ora possiamo Postituire il computer Ah Aggiorniamo un po' A proposito Ora che ci penso È vero che sta finendo Di editare Un attimo Oddio Ha fatto male perché Vediamo i commenti Dai Ok Sì sì Ok Ma perché non mi fa Cliccare Vediamo i commenti Quale cosa è andato bene E Avrei preferito Non spercare il tempo Guardando questo video Eh Ovviamente Allora vediamo un po' Dicevo Vediamo un po' Cosa abbiamo Come va Roberta Vogliamo feste Soprattutto che vuoi divertirti un po' Oh no Grazie Non andiamo all'invito Per la festa Ragazzi non c'ha senso Allora vediamo sto Ikea Che diamine c'ha Allora c'è più Guarda il fatto che voglio vedere un attimo la cp Cosa c'ho Guardalo C'è più ultra Oh mio dio guarda che figlio È uno dei più video C'è uno di quelli migliori Allora Oh abbiamo un po' Di soldi Idea Finalmente Vediamo che diamine c'è Su sto Benedetto cosa Compriamoci un po' Di roba Allora Oh mio dio guardate C'è solo un botto di cose Ci sono Allora possiamo comprarci Io direi un nuovo Frigorifero Se riesco Vediamo un po' Se riesco a trovarlo Non riesco a trovare Una poltrona Questa Le catane Mi piacciono un botto Monopoli Non so perché Monopoli ma va bene Una re Oddio Una reflex Perché devo comprare una reflex Può in realtà rimane lì Senza posso utilizzarla Bella domanda E Non ho Un giardino zen Va bene Facciamo acquisti a random Senza un vero motivo Sinceramente Info Crede che devo ripararlo ragazzi Si sta rompendo Sto povero pc Oh guardate Abbiamo fatto sta roba Perfetto Altri punti Odiente Lì sarà andato malissimo ragazzi Livello 26 Referral marketing unlocked Mmm Buono Buono Quindi possiamo comprarci Un nuovo pc Cioè Un nuovo pc Un nuovo telefono Oh avete la nuova poltrona Perfetto Ora arriveranno altre cose Per la casa Che sono più o meno utili Allo momento E tipo magari potresti fare un video Se ci sei Anche perché dovresti farlo Io dovrei andare a mangiare A dormire Per forza Minimo Quindi Facciamo una speedrun Tanto Ormai siamo messi Abbastanza bene Possiamo permetterci una speedrun Falla acqua E tanto dovranno andare a dormire Nel frattempo Quindi Non hai problemi Magari fai un video Della madonna Che è tutto a posto Allora dormiamo E poi andiamo a mangiare Ragazzi miei Uh guarda quanti soldi Perfetto Dai Ragazzi abbiamo più di 1000 dollari Possiamo comprarci un nuovo pc Appena possibile Vorrei comprarlo perché Mi servirebbe Però magari Su frigorifero Possiamo aggiustarlo Perché non abbiamo Un nuovo frigorifero decente Ragazzi sinceramente Un frigorifero decente Non dico tanto Vabbè comunque pizza Che ci dà tutta la vita Tutto l'hp In sostanza 60 punti massimi abbiamo Per il momento Va bene Infatti un po' lei sta Editando Sta facendo cose Potremmo comprarci Un nuovo gioco Se vogliamo Vediamo un attimo Che cosa possiamo comprare Che è uscito adesso So che è uscito Un 6 Uscivo un gioco nuovo Tipo qua Anzi il 5 Uscivo a blocchi cookie Quindi se riesco Potrei anche farcelo Un first impression Credo di si Vediamo un po' amazing Ehm Vediamo il 6 Allora Settembre Agosto Piegato non sono mai in ordine Non capisco perché Non siano in ordine Settembre Settembre Agosto 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 Perché non c'è Stata roba Ehm I più votati Perfetto Vediamo un po' Che altro c'è Vai I più votati Ok 1.6 Oddio Ok sono rimasti normali Niente ragazzi Ok eccolo qua Ho uscito un nuovo gioco L'8 ottobre Cioè il 7 ottobre Oggi per esempio Lo compriamo Forse impression subito Robio Intanto costano davvero pochissimi E tipo No no Non andare a casa Ma hai deciso Andate a casa ragazzi Sta stronza E mo devo aspettare Che finisca di editare Il video Diamine Vabbè Andiamo in teoria Quindi abbiamo un po' arrivato Perfetto Ok nuova console A proposito di console Sostituisci Vediamo un po' Che abbiamo sostituito Il pc Ah forse perché Quello mio era rotto Può essere No però perché Ho speso tutti quei soldi Amica a proposito Oh calmati Calmati Show result Ok Bene 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 Vai pubblica il video Non ho fatto granché Però facciamo finta che sia giusto Allora dicevo Facciamo un nuovo video Sul nuovo gioco L'abbiamo appena acquistato Il 7 oggi Quindi 7 ottobre Dovremmo poter fare In teoria Un first impression Oddio è bassissimo Però sta saltando Già sta a basso Prima impressione Così ha ranno Perché ce l'hanno chiesto Quindi perché no Facciamolo Ok vai Prima impressione Su questo nuovo gioco È un gioco interessante Ci hanno pagato per dirlo Però Un gioco interessante Forse Andiamo Facciamo tanto copione Ok Allora Non ho altre carte così Vediamo un po' Che esce Ecco qua Commento A grafica Sperato una sfida facile Va bene Altro sguardo Per andare avanti Perfetto Allora Questo qua Ok Ho fatto l'upload Perfetto Buono Oh merda Troppi commenti negativi E mi sa che è ancora presto ragazzi Per poter fare I nostri World Troopi Troopi Ho fatto già Quanto gameplay Un po' strano Che non mi faccia fare Sta roba Come mai Stranissimo In realtà Ci abbiamo la roba Davvero strano Non è sincero Vabbè commento Serio Comunque Dovemmo aver finito In teoria Vero? E Ok Quattro Perfetto Dovemmo aver finito così Peccato Stiamo perdendo gli iscritti Stiamo perdendo Perché Abbiamo fatto una pessima idea Girano voci No Nega Perfetto Abbiamo preso un po' di cose Vediamo un po' come è andato Sono commenti negativi Ah Merda Maledizione Com'è così nuovo? Dai ma no Abbiamo fatto davvero Tanta nuova Perché no? Evidentemente abbiamo fatto Un po' di cose Strano però Strano Vabbè Comunque In teoria Dovrebbe andato bene Oh merda Ok questo E sotto Quindi facciamo questo E basta Va bene Peccato Peccato Che in effetti Volevo fare qualcosa di decente Funzionale Invece no E' andato abbastanza Merda Va bene Facciamo così Ottimo Ok Peccato E vabbè Questo video è ormai Andato una merda Mi dispiace Mi capiamo Cioè Scusami Non pensavo Facesse così schifo E niente Andiamo quindi Tranquillamente Di nuovo A farci Walkthrough Niente Va male Speedrun Peccato Forse dopo un totti Tempo Mi bisogna fare Speedrun Ragazzi Avete Ma in realtà Ma scusami Aspetta ma perché Stavando qua Io dove ho fatto il video Io Sono a forse impression A forse è che il tempo Che va a caricare In teoria va bene Non lo so Ma il fatto è che Ho speso dei soldi Non so nemmeno perché E non li ho guadagnati Indietro Quindi è stato un po' Un problema Comunque ragazzi Direi che per questo video Potrebbe essere anche tutto Noi ci vediamo qui per ora Per questa puntata Ci vediamo presto A un nuovissimo video Di youtuber's life Ma hai detto il copyright Speriamo di non prenderlo più In ogni caso Da lì c'è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata Ciao ragazzi